Come territorio e come paese abbiamo una grande opportunità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, si inserisce all'interno del programma Next Generation EU, un fondo pari a 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma Next Generation EU è il dispositivo per la ripresa e resilienza, che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026. Italia Domani è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia. È un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere. Prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme. 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il dispositivo per la ripresa e resilienza, 30,6 miliardi attraverso il fondo complementare. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo. Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si articola in sei missioni, coerenti con i sei pilastri del Next Generation EU. Digitalizzazione, innovazione, competitività, culture e turismo. Rivoluzione verde e transizione ecologica. Infrastrutture per una mobilità sostenibile. Istruzione e ricerca. Inclusione e coesione. Salute. Le missioni si articolano in componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da investimenti e riforme. Il nostro territorio ha una grande opportunità. Per questo è fondamentale che tutti gli attori istituzionali, economici e sociali operino in sinergia, per mettere a sistema i grandi fondi previsti dal PNRR e dal fondo complementare con le risorse inserite nella programmazione ordinaria comunitaria e nazionale e ottimizzare così, insieme, le risorse e i risultati raggiungibili. In un quadro complesso che si definisce tra programmi e linee di finanziamento, abbiamo una regia condivisa. Siamo pronti a partire.